Leopardi Storia del genere umano Narrasi che tutti gli uomini che da principio popolarono la terra fossero creati per ogni dove a un medesimo tempo e tutti i bambini che fossero nutricati dalle api, dalle capre e dalle colombe nel modo che i poeti favoreggiarono dell'educazione di Giove e che la terra fosse molto più piccola che ora non è quasi tutti i paesi piani, il cielo senza stelle non fosse creato mare e apparisse nel mondo molto minore varietà e magnificenza che oggi non vi si scopre ma non di meno gli uomini compiacendosi insaziabilmente di riguardare e di considerare il cielo e la terra meravigliandosene sopramodo e riputando l'uno e l'altra bellissimi e non che vasti ma infiniti così di grandezza come di maestà e di leggiadria bascendosi oltre a ciò di lietissime speranze e traendo da ciascun sentimento della loro vita incredibili diletti crescevano con molto contento e con poco meno che opinione di felicità così consumata dolcissimamente la fanciullezza e la prima adolescenza e venuti in età più ferma incominciarono a provare alcuna mutazione perciò che le speranze che eglino fino a quel tempo erano andati rimettendo di giorno in giorno non si riducendo ancora ad effetto parve loro che meritassero poca fede e contentarsi di quello che presentemente godessero senza promettersi per un accrescimento di bene non pareva loro di potere massimamente che l'aspetto delle cose naturali e ciascuna parte della vita giornaliera o per la sua effazione o per essere diminuita nei loro animi quella prima vivacità non riusciva loro di gran luogo così dilettevole e grata come a principio andavano per la terra visitando lontanissime contrade poiché lo potevano fare agevolmente per essere luoghi piani e non divisi da mari né impediti da altre difficoltà e dopo non molti anni i più di loro si avvidero che la terra ancorché grande aveva termini certi e non così larghi che fossero incomprensibili e che tutti i luoghi di essa terra e tutti gli uomini salvo leggerissime differenze erano conformi gli uni agli altri per le quali cose cresceva la loro mala contentezza di modo che essi non erano ancora usciti dalla gioventù che un espresso fastidio dell'essere loro li aveva universalmente occupati e di mano in mano nell'età virile e maggiormente in sul declinare degli anni convertita la sazietà in odio alcuni vennero in si fatta disperazione che non sopportando la luce e lo spirito che nel primo tempo avevano avuti in tanto amore spontaneamente quale in uno e quale in altro modo se ne privarono parverrendo questo caso agli dei che da creature viventi la morte fosse preposta alla vita e che questa medesima in alcun suo proprio soggetto senza forza di necessità e senza altro concorso fosse strumento a disfarlo né si può facilmente dire quanto si meravigliassero che i loro doni fossero tenuti così vili ed abominevoli che altri dovesse con ogni sua forza spogliarsigli e rigettarli parendo loro aver posta nel mondo tanta bontà e vaghezza e tali ordini e condizioni che quella stanza avesse ad essere nonché tollerata ma sommamente amata da qualsivoglia animale e dagli uomini massimamente il qual genere avevano formato con singolare studio a maravigliosa eccellenza ma nel medesimo tempo oltre all'essere tocchi da non mediocre pietà di tanta miseria umana quanta manifestavasi dagli effetti dubitavano ezzendio che rinnovandosi e moltiplicandosi quei tristi esempi la stirpe umana fra poca età contro l'ordine dei fati venisse a perire e le cose fossero private di quella perfezione che risultava loro dal nostro genere ed essi di quegli onori che ricevevano dagli uomini deliberato pertanto giove di migliorare poiché parea che si richiedesse lo stato umano e di indirizzarlo alla felicità con maggiori sussidi intendeva che gli uomini si quereravano principalmente che le cose non fossero immense di grandezza né infinite di beltà di perfezione e di varietà come essi da prima avevano giudicato anzi essere angustissime tutte imperfette e per so che di una forma e che dolendosi non solo dell'età provetta ma della natura e della medesima gioventù e desiderando le dolcezze dei loro primi anni pregavano ferventemente di essere tornati nella fanciullezza e in quella perseverare tutta la loro vita e la qualcosa non poteva giove soddisfarli essendo contrari alle leggi universali della natura e da quegli uffici e quelle utilità che gli uomini dovevano secondo l'intenzione e i decreti divini esercitare e produrre neanche poteva comunicare la propria infinità con le creature mortali né fare la materia infinita né infinita la perfezione e la felicità delle cose e degli uomini ben gli perve conveniente di propagare i termini del creato e di maggiormente adornarlo e distinguerlo e preso questo consiglio ringrandì la terra ad ogni intorno e vinfuse il mare a ciò che interponendosi ai luoghi abitati diversificasse la sembianza delle cose e impedisse che i confini loro non potessero facilmente essere conosciuti dagli uomini interrompendo i cammini ed anche rappresentando agli occhi una viva similitudine dell'immensità nel qual tempo occuparono le nuove acque la terra atlantide non solo a essa ma insieme altri innumerabili e distesissimi tratti benché di quella resti memoria speciale sopravvissuta alla moltitudine dei secoli molti luoghi depresse molti ricolmò suscitando i monti e le colline cosparse la notte di stelle rassottigliò e ripurgò la natura dell'aria ed accrebbe il giorno di chiarezza e di luce rinforzò e contemperò più diversamente che per l'addietro i colori del cielo e delle campagne confuse le generazioni degli uomini in guisa che la vecchiezza degli uni concorresse in un medesimo tempo con l'altrui giovanezza e puerizia e risolutosi di moltiplicare le apparenze di quello infinito che gli uomini sommamente desideravano da poi che egli non li poteva compiacere nella sostanza e volendo favorire e pacere le colori immaginazioni dalla virtù delle quali principalmente comprendeva essere proceduta quella tanta beatitudine della loro fanciullezza fra i molti espedienti che pose in opera siccome fu quello del mare creato l'eco lo nascose nelle valli e nelle spelonche e mise nelle selve uno strepito sordo e profondo con un vasto ondeggiamento delle loro cime creò similmente il popolo dei sogni e commise loro che ingannando sotto più forme il pensiero degli uomini figurassero loro quelle pienezze di non intellegibile felicità che egli non vedeva modo a ridurre in atto e quelle immagini perplesse e indeterminate delle quali esso medesimo sebbene avrebbe voluto farlo e gli uomini lo sospiravano ardentemente non poteva produrre alcun esempio reale fu per questi provvedimenti di giove ricreato ed eretto l'animo degli uomini era integrata in ciascuno di loro la grazia e la carità della vita non altrimenti che l'opinione il diletto e lo stupore della bellezza e dell'immensità delle cose terrene e durò questo buono stato più lungamente che il primo massime per la differenza del tempo introdotta da giove nei nascimenti sicché gli animi freddi e stanchi per l'esperienza delle cose erano confortati vedendo il calore e le speranze dell'età verde ma in progresso di tempo tornata a mancare affatto la novità e risorto riconfermato il tedio e la disistima della vita si ridussero gli uomini in tale abbattimento che nacque allora come si crede il costume riferito nelle storie come praticato da alcuni popoli antichi che lo osservarono che nascendo alcuno si congregavano i parenti e i loro amici a piangerlo e morendo era celebrato quel giorno con feste e ragionamenti che si facevano congratulandosi con l'estinto all'ultimo tutti i mortali si volsero all'impietà o che paresse loro di non essere ascoltati da giove o essendo propria natura delle miserie indurare e corrompere gli animi e ziandio più ben nati e disamorarli dell'onesto e del retto perciò che si ingannarono a ogni modo coloro i quali estimarono essere nata primieramente l'infelicità umana dall'iniquità e dalle cose commesse contro gli dèi ma per lo contrario non d'altronde ebbe principio la malvagità degli uomini che dalle loro calamità e poiché fu punita dagli dèi col diluvio di Deucalione la protervia dei mortali e presa vendetta delle ingiurie i due soli scampati dal naufragio universale del nostro genere Deucalione e Pirra affermando se come desimi né una cosa potere maggiormente giovare alla stirpe umana che di essere del tutto spenta sedevano in cima a una rupe chiamando la morte con efficacissimo desiderio non che temessero né deplorassero il fato comune non pertanto ammoniti da giovedi riparare alla solitudine della terra e non sostenendo come erano sconfortati e disdegnosi della vita di dare opera alla generazione tolto delle pietre della montagna secondo che dagli dei fu mostrato loro e dittatosele dopo le spalle restaurarono la specie umana ma Giove fatto accorto per le cose passate della propria natura degli uomini e che non può loro bastare come agli altri animali vivere ed essere liberi da ogni dolore e molestia del corpo anzi che bramando sempre e in qualunque stato l'impossibile tanto più si travagliano con questo deciderio da sé medesimi quanto meno sono afflitti dagli altri mali deliberò valersi di nuove arti a conservare questo misero genere le quali furono principalmente due l'una mescere la loro vita di mali veri l'altra implicarla in mille negozi e fatiche ad effetto di intrattenere gli uomini e divertirli quanto più si potesse dal conversare col proprio animo o almeno col desiderio di quella loro incognita e vana felicità quindi primieramente diffuse tra loro una varia moltitudine di morbi e un infinito genere di altre sventure parte volendo col variare le condizioni e le fortune della vita mortale ovviare alla sazietà e crescere con l'opposizione dei mali il pregio dei beni parte ciò che il difetto dei godimenti riuscisse agli spiriti esercitati in cose peggiori molto più comportabile che non aveva fatto per lo passato e parte essendio con intendimento di rompere e manzuefare la ferocia degli uomini ammaestrarli a piegare il collo e cedere alla necessità ridurli a potersi più facilmente appagare della propria sorte e rintuzzare negli animi affievoliti non meno dalle infermità del corpo che dai travagli propri la cume e la vemenza del desiderio oltre oltre di questo conosceva dove avvenire che gli uomini oppressi dai morbi e dalle calamità fossero meno pronti che per l'addietro avvolgere le mani contra se stessi però che sarebbero incodarditi e prostrati di cuore come interviene per l'uso dei patimenti i quali sogliono anche lasciando luogo alle speranze migliori allacciare gli animi alla vita in perciò che gli infelici hanno ferma opinione che egli no sarebbero felicissimi quando si riavessero dei propri mali ma qualcosa come la natura dell'uomo non mancano mai di sperare che debba loro succedere in qualche modo appresso creò le tempeste dei venti e dei nembi si armò del tuono e del fulmine diede a Nettuno il tridente spinse le comete in giro e ordinò le eclissi con le quali cose e con altri segni ed effetti terribili istitui di spaventare i mortali di tempo in tempo sapendo che il timore e i presenti pericoli riconcilierebbero alla vita almeno per breve ora non tanto gli infelici ma quelli e zandio che l'avessero in maggiore abominio e che fossero più disposti a fuggirla e per escludere la passata oziosità indusse nel genere umano il bisogno e l'appetito di nuovi cibi e di nuove bevande le quali cose non senza molta grave fatica si potessero provvedere laddove in sino al diluvio gli uomini dissetandosi delle sole acque si erano pasciuti delle erbe e delle frutta che la terra e gli arbori somministravano loro spontaneamente e di altre nutriture vili e facili a procacciare siccome usano di sostenersi ancora oggi di alcuni popoli e particolarmente quelli di california assegnò ai diversi luoghi diverse qualità celesti e similmente alle parti dell'anno il quale sino a quel tempo era sempre stato in tutta la terra benigno e piacevole in modo che gli uomini non avevano avuto uso di vestimenti ma di questi per l'innanzi furono costretti a fornirsi e con molte industrie riparare alle mutazioni e inclemenze del cielo impose a mercurio che fondasse le prime città e distinguesse il genere umano in popoli nazioni e lingue ponendo gara e discordia tra loro e che mostrasse agli uomini il canto e quelle arti che si per natura e si per l'origine furono chiamate e ancora si chiamano divine esso medesimo diede leggi stati e ordini civili alle nuove genti e in ultimo volendo con incomparabile dono beneficarle mandò tra loro alcuni fantasmi di sembianze eccellentissime e soprumane ai quali permise in grandissima parte il governo e la potestà di esse genti e furono chiamati giustizia virtù gloria amor patrio e con altri si fatti nomi tra i quali fantasmi fu medesimamente uno chiamato amore che in quel tempo primieramente siccome anche gli altri venne in terra perciò che innanzi all'uso dei vestimenti non amore ma impeto di cupidità non dissimile negli uomini di allora da quello che fu di ogni tempo nei bruti spingeva l'un sesso verso l'altro nella guisa che tratto ciascuno ai cibi e a simili oggetti i quali non si amano veramente ma si appetiscono fu cosa ammirabile quanto frutto partorissero questi divini consigli alla vita mortale e quanto la nuova condizione degli uomini nonostante le fatiche gli spaventi e i dolori cose per l'addietro ignorate dal nostro genere superasse di comodità e di dolcezza quelle che erano state innanzi al diluvio e questo effetto provenne in gran parte da quelle maravigliose larve le quali dagli uomini furono reputate ora geni ora i dii eseguite e culte con ardore inestimabile e con vaste e portentose fatiche per lunghissima età infiammandoli a questo dal canto loro con infinito sforzo i poeti e i nobili artefici tanto che un grandissimo numero di mortali non dubitarono chi all'uno chi all'altro di quei fantasmi donare e sacrificare il sangue e la propria vita a qualcosa non che fosse di scara a giove anzi piaceva gli sopramodo così per gli altri rispetti come che egli giudicava dover essere gli uomini tanto meno facili agittare volontariamente la vita quanto più fossero pronti a spenderla per cagioni belle e gloriose anche di durata questi buoni ordini eccedettero grandemente ai superiori poiché quantunque venuti dopo molti secoli in manifesto abbassamento non di meno ezzandio declinando e poscia precipitando valsero in guisa che fino all'entrare di un'età non molto rimota dalla presente la vita umana la quale per virtù di quegli ordini era stata già ma assieme in alcun tempo quasi gioconda si mantenne per beneficio loro mediocremente facile e tollerabile le cagioni e i modi del loro alterarsi furono i molti ingegni trovati dagli uomini per provvedere agevolmente e con poco tempo ai propri bisogni lo smisurato accrescimento delle disparità di condizioni e di uffici costituita da giove tra gli uomini quando fondò e dispose le prime repubbliche l'oziosità e la vanità che per queste cagioni di nuovo dopo antichissimo esilio occuparono la vita l'essere non solo per la sostanza delle cose ma ancora d'altra parte per l'estimazione degli uomini venuta a scemarsi in essa vita la grazia della varietà come sempre suole per la lunga consuetudine e finalmente le altre cose più gravi le quali per essere già descritte e dichiarate da molti non accade ora distinguere certo negli uomini si rinnovellò quel fastidio delle cose loro che li aveva travagliati avanti il diluvio e rinfrescossi quell'amaro desiderio di felicità ignota ed aliena dalla natura dell'universo ma il totale rivolgimento della loro fortuna e l'ultimo esito di quello stato che oggi siamo soliti di chiamare antico venne principalmente da una cagione diversa dalle predette e fu questa era tra quelle larve tanto apprezzate dagli antichi una chiamata nelle costrolingue sapienza la quale onorata universalmente come tutte le sue compagne e seguita in particolare da molti avea altresì al pari di quelle conferito per la sua parte alla prosperità dei secoli scorsi questa più e più volte anzi quotidianamente aveva promesso e giurato ai seguaci suoi di voler loro mostrare la verità la quale diceva a essere un genio grandissimo e sua propria signora né mai venuta in sulla terra ma sedere con gli dèi nel cielo donde essa prometteva che con l'autorità grazia propria intendeva di trarla e di ridurla in qualche spazio di tempo a peregrinare tra gli uomini per l'uso e per la familiarità della quale dovere il genere umano venire in si fatti termini che di altezza di conoscimento eccellenza di istituti e di costumi e felicità di vita per poco fosse comparabile al divino ma come poteva una pura ombra e una sembianza vota mandare ad effetto le sue promesse non che menare in terra la verità sicché gli uomini dopo lunghissimo credere e confidare avvedutisi della vanità di quelle profferte e nel medesimo tempo famelici di cose nuove massime per l'ozio in cui vivevano e stimolati parte dall'ambizione di primeggiare agli dei parte dal desiderio di quella beatitudine che per le parole del fantasma si riputavano conversando con la verità essere per conseguire si volsero con istantissime e presuntuose voci dimandando a giove che per alcun tempo concedesse alla terra quel nobilissimo genio rimproverandogli che egli invidiasse alle sue creature l'utilità infinita che dalla presenza di quello riporterebbero e insieme si rammaricavano con lui della sorte umana rinnovando le antiche e odiose querele della piccolezza e della povertà delle loro cose e perché quelle speziosissime larve principio di tanti beni all'età passate ora si tenevano dalla maggior parte in poca stima non che già fossero note per quelle che veramente erano ma la comune viltà dei pensieri e l'ignavia dei costumi facevano che quasi nessuno oggi mai li seguiva perciò gli uomini bestemmiando scelleratamente il maggior dono che gli eterni avessero fatto e potuto fare ai mortali gridavano che la terra non era degnata se non dei minori geni e ai maggiori ai quali la specie umana più concedentemente si inchinerebbe non essere degno né lecito di porre il piede in questa infima parte dell'universo molte cose avevano già da gran tempo alienata nuovamente dagli uomini la volontà di giove e tra le altre gli incomparabili vizi e misfatti i quali per numero e per tristezza si avevano di lunghissimo intervallo lasciati addietro le malvagità vendicate dal diluvio stomacavano del tutto dopo tante esperienze prese l'inquieta insaziabile immoderata natura umana alla tranquillità della quale nonché alla felicità vedevo ormai per certo né un provvedimento condurre né uno stato convenire né un luogo essere bastante perché quando bene egli avesse voluto in mille doppi aumentare gli spazi e i diletti della terra e l'università delle cose quella e queste agli uomini parimente incapaci e cupidi dell'infinito fra breve tempo erano per parere strette di zamene e di poco pregio ma in ultimo quelle stolte e superbe domande commossero talmente l'ira del dio che egli si risolse posta da parte ogni pietà di punire in perpetuo la specie umana condannandola per tutta l'età futura a miseria molto più grave che le passate per la qualcosa deliberò non solo mandare la verità fra gli uomini a stare come si chiedevano per alquanto di tempo ma dando l'eterno domicilio tra loro ed esclusi di quaggiù quei vaghi fantasmi che egli vi aveva collocati farla perpetua moderatrice e signora della gente umana e maravigliandosi gli altri dei di questo consiglio come quelli ai quali pareva che egli avesse a ridondare in troppo innalzamento dello stato nostro e in pregiudizio della loro maggioranza gioveli rimosse da questo concetto mostrando loro oltre che non tutti i geni e zian dio grandi sono di proprietà benefici non essere tale l'ingegno della verità che ella dovesse fare gli stessi effetti negli uomini che negli dei però che laddove agli immortali ella dimostrava la loro beatitudine li scoprirebbe agli uomini interamente e proporrebbe ai medesimi del continuo dinanzi agli occhi la loro infelicità rappresentandola oltre a questo non come opera solamente della fortuna ma come tale che per nieno accidente e nieno rimedio non la possano campare né mai vivendo interrompere ed avendo la più parte dei loro mali questa natura che intanto siano mali in quanto sono creduti essere da chi li sostiene e più o meno gravi secondo che esso gli stima si può giudicare di quanto grandissimo documento sia per essere agli uomini la presenza di questo genio ai quali né una cosa apparirà maggiormente vera che la falsità di tutti i beni mortali e né una solida se non la vanità di ogni cosa fuorché dei propri dolori per queste cagioni saranno e zian dio privati della speranza con la quale da principio insinua il presente più che con altro diletto o conforto alcuno sostentarono la vita e nulla sperando neveggendo alle imprese e fatiche loro alcun degno fine verranno in tale negligenza e abborrimento da ogni opera industriosa nonché magnanima che la comune usanza dei vivi sarà poco dissomigliante da quella dei sepolti ma ma in questa disperazione e lentezza non potranno fuggire che il desiderio di un'immensa felicità congenito agli animi loro non li punga e cruci tanto più che in addietro quanto sarà meno ingombro e distratto dalla varietà delle cure e dall'impeto delle azioni e nel medesimo tempo si troveranno essere destituiti dalla naturale virtù immaginativa che solo poteva per alcuna parte soddisfarli di questa felicità non possibile e non intesa né da me né da loro stessi che la sospirano e tutte quelle somiglianze dell'infinito che il dio studiosamente avea poste nel mondo per ingannarli e pascerli conforme alla loro inclinazione di pensieri vasti e indeterminati riusciranno insufficienti a questo effetto per la dottrina e per gli abiti che egli apprenderanno dalla verità di maniera che la terra e le altre parti dell'universo se per addietro parvero loro piccole parlano da ora innanzi menome perché essi saranno istrutti e chiariti degli arcani della natura e perché quelle contro la presente aspettazione degli uomini appaiono tanto più stretti a ciascuno quanto egli ne ha più notizia finalmente per ciò che saranno stati ritolti alla terra i suoi fantasmi e per gli insegnamenti della verità per li quali gli uomini avranno piena contezza dell'essere di quelli mancherà dalla vita umana ogni valore ogni rettitudine così di pensieri come di fatti e non pure lo studio e la carità ma il nome stesso delle nazioni e delle patrie sarà spento per ogni dove recandoci tutti gli uomini secondo che essi saranno usati di dire in una sola nazione e patria come fu da principio e facendo professione di amore universale verso tutta la loro specie ma veramente dissipandosi la stirpe umana in tanti popoli quanti saranno uomini per ciò che non si proponendo né patria da dovere particolarmente amare né strani da odiare ciascheduno odierà tutti gli altri amando solo di tutto il suo genere se medesimo dalla qualcosa quanti e quali incomodi sieno per nascere sarebbe infinito a raccontare né per tante si disperata infelicità si ardiranno i mortali di abbandonare la luce spontaneamente però che l'imperio di questo genio li farà non meno vili che miseri ed aggiungendo oltremodo alle acerbità della loro vita li priverà del valore di rifiutarla per queste parole di Giove parve agli dei che la nostra sorte fosse per essere troppo più fiera e terribile che alla divina pietà non si convenisse di consentire ma Giove seguitò dicendo avranno tuttavia qualche mediocre conforto da quel fantasma che si chiamano amore il quale io sono disposto rimuovendo tutti gli altri lasciare nel consorzio umano e non sarà dato alla verità quantunque potentissima e combattendolo di continuo né sterminarlo mai dalla terra né vincerlo se non di rado sicché la vita degli uomini parimenti occupata nel culto di quel fantasma e di questo genio sarà divisa in due parti e l'uno e l'altro di quelli avranno nelle cose e negli animi dei mortali comune imperio tutti gli altri studi eccetto che alcuni pochi e di piccolo conto verranno meno nella maggior parte degli uomini alle età gravi il difetto delle consolazioni di amore sarà compensato dal beneficio della loro naturale proprietà di essere quasi contenti della stessa vita come accade negli altri generi di animali e di curarla diligentemente per sua cagione propria non per diletto né per comodo che ne ritraggano così rimossi dalla terra i beati fantasmi salvo solamente amore il manco nobile di tutti Giove mandò tra gli uomini la verità e diede le appo loro perpetua stanza e signoria di che seguitarono tutti quei luttuosi affetti che egli aveva preveduto e intervenne cosa di gran meraviglia che ove quel genio prima della sua discesa quando egli non avea potere né ragione alcuna negli uomini era stato da essi onorato con grandissimo numero di templi e di sacrifici ora venuto sulla terra con autorità di principe e cominciato a conoscere di presenza al contrario di tutti gli altri immortali che più chiaramente manifestandosi appaiono più venerandi contristò di modo le menti degli uomini e percossere di così fatto orrore che egli no sebbene sforzati di ubbidirlo ricusano di adorarlo e invece che quelle larve in qualunque animo avessero maggiormente usata la loro forza sollevano essere da quello più riverite ed amate il suo genio riportò più fiere maledizioni e più grave odio da coloro in che egli ottenne maggiore imperio ma non potendo perciò ne sottrarsi né ripugnare alla sua tirannite vivevano i mortali in quella suprema miseria che egli non sostengono in sino ad ora e sempre sosterranno se non che la pietà la quale negli animi dei celesti non è mai spenta commosse non è gran tempo la volontà di giove sopra tanta infelicità e massime sopra quella di alcuni uomini singolari per finezza di intelletto congiunta nobiltà di costumi e integrità di vita i quali egli vedeva essere comunemente oppressi ed afflitti più che alcun altro dalla potenza e dalla dura dominazione di quel genio avevano usato gli dei negli antichi tempi quando giustizia e virtù e gli altri fantasmi governavano le cose umane visitare alcuna volta le proprie fatture scendendo ora l'uno ora l'altro in terra e qui significando la loro presenza in diversi modi la quale era stata sempre con grandissimo beneficio o di tutti i mortali o di alcuno in particolare ma corrotta di nuovo la vita e sommersa in ogni scelleratezza sdegnarono quelli per lunghissimo tempo la conversazione umana ora giove compassionando alla nostra somma infelicità propose agli immortali se alcuno di loro fosse per indurre l'animo a visitare come avevano usato in antico a racconsolare in tanto travaglio questa loro progenie e particolarmente quelli che dimostravano essere quanto a sé indegni della sciagura universale al che tacendo tutti gli altri amore il ruolo di venere celeste conforme di nome al fantasma così chiamato ma di natura di virtù e di opere diversissimo si offerse come è singolare fra tutti i numi della sua pietà di fare esso l'ufficio proposto da giove e scendere dal cielo donde egli mai per l'avanti non si era tolto non sofferendo il consiglio degli immortali per averlo indicibilmente caro che egli si partisse anche per piccolo tempo dal loro commercio sebbene di tratto in tratto molti antichi uomini ingannati da trasformazioni e da diverse frodi del fantasma chiamato con lo stesso nome si pensarono avere non dubbi segni della presenza di questo massimo iddio ma esso non prima si volse a visitare i mortali che egli non fossero sottoposti all'imperio della verità dopo il qual tempo non suole anche scendere se non di rado e poco si ferma così per la generale indegnità della gente umana come che gli dai sopportano molestissimamente la sua lontananza quando viene sulla terra sceglie i cuori più teneri e più gentili delle persone più generose e magnanime e qui vi siede per breve spazio diffondendovi si pellegrina e immirabile sua vita ed empiendoli di affetti si nobili e di tante virtù e fortezza che egli non allora provano cosa al tutto nuova nel genere umano piuttosto verità che la somiglianza di beatitudine rarissimamente congiunge i due cuori insieme abbrazzando l'uno e l'altro a un medesimo tempo e inducendo scambievole ardore e desiderio in ambe due benché pregatone con grandissima istanza da tutti coloro che egli occupa ma Giove non gli consente di compiacerli trattone alcuni pochi perché la felicità che nasce da tale beneficio è di troppo breve intervallo superata dalla divina ad ogni modo l'essere pieni del suo nome vinse per sé qualunque più fortunata condizione fosse in alcun uomo ai migliori tempi dove egli si posa dintorno a quello si aggirano invisibili a tutti gli altri le stupende larve già segregate dalla consuetudine umana le quali esso Dio riconduce per questo effetto in sulla terra permettendolo Giove ne potendo essere vietato dalla verità quantunque nemicissima a quei fantasmi e nell'animo grandemente offesa del loro ritorno ma non è dato alla natura dei geni di contrastare agli dèi e siccome i fati lo dotarono di fanciullezza eterna quindi esso convenientemente a questa sua natura adempie per qualche modo quel primo voto degli uomini che fu di essere tornati alla condizione della puerizia perciò che negli animi che egli si elegge ad abitare suscita e rinverdisce per tutto il tempo che egli vi siede l'infinita speranza e le belle e care immaginazioni degli anni teneri molti mortali inesperti e incapaci dai suoi diletti lo schermiscono e mordono tutto il giorno si lontano come presente con sfrenatissima audacia ma esso non ho dei costoro obrobri e quando li udisse né un supplizio ne prenderebbe tanto è da natura magnanimo e mansueto oltre che gli immortali contenti della vendetta che prendono di tutta la sirpe e dell'insanabile miseria che la castiga non curano le singolari offese degli uomini ed altro in particolare sono puniti i fraudolenti e gli ingiusti e i dispregiatori degli dei che di essere alieni anche per proprio nome dalla grazia di quelli che 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 nel numero